Vi sono motivi pratici, organizzativi per i quali in alcune realtà non si riesce ad avere l'obbligo del Green Pass. Ma questo che vuol dire? Che se vi sono tre o quattro situazioni su dieci nelle quali non riusciamo ad avere un controllo capillare, allora evitiamo di fare i controlli anche nelle realtà nelle quali il controllo è possibile, come in un ufficio, con personale più limitato, in un'azienda, in una fabbrica dove il controllo è possibile. Dunque quando si dice che vi sono situazioni paradossali si dice una stupidaggine perché è del tutto evidente che su base nazionale non riusciremo ad arrivare dappertutto a fare i controlli. Ma questo non giustifica il fatto che dove i controlli sono possibili tu non li faccia, perché questo significa limitare drasticamente il danno. Ci vuole tanto a capirlo. Quindi il problema non è fare come nelle situazioni dove non c'è il controllo, ma fare il controllo dove è possibile farlo e dove quindi è necessario farlo. Perché questo è un modo per ridurre di due terzi il pericolo di contagio. Ma ormai la stupidità dilaga in Italia. E la principale responsabilità di questo dilagare di stupidità è legato a mio parere a due motivi. Il primo, l'errore drammatico dal punto di vista della comunicazione fatta dal governo italiano e dal commissario, commissario ai vaccini, fra maggio e giugno a proposito di AstraZeneca, quando è stata data all'Italia una comunicazione demenziale che ha fatto perdere ai cittadini italiani la fiducia nello Stato e anche nella efficacia della campagna di vaccinazione, oltre che nella sicurezza, una volta eliminati anche i vaccini tipo AstraZeneca. Il secondo motivo di questo dilagare di irresponsabilità è legato alla irresponsabilità di due forze politiche, la Lega e Fratelli d'Italia, di due leader politici, Salvini e Meloni, che da un anno stanno giocando con il fuoco. Da quando c'era l'obbligo delle mascherine durante gli assembramenti, questi due signori contrari a fare le manifestazioni a Via del Corso, cortei di 40.000 persone, senza mascherine, per puro opportunismo politico. Abbiamo in particolare l'onorevole Meloni, che continuano a parlare come una maestrina saputella, con grande sicurezza, e che ci racconta il più delle volte stupidaggini come quelle che ha raccontato Montesano. Io sono a favore della vaccinazione, dice la Meloni. Non ho nulla contro l'obbligo di vaccinazione, però il Green Pass no. Ecco, questo è un altro esempio di irresponsabile capziosità. La domanda da fare ai leader politici è questa. Tu, se fossi al governo, che provvedimento prenderesti? Sì o no al Green Pass? Perché se dici no al Green Pass, stai dicendo una cosa semplice, che in Italia ognuno è libero di andare a scuola, di andare al lavoro, di andare in fabbrica, di andare negli uffici, essendo libero di contagiare i propri colleghi di lavoro o i propri compagni di scuola. Questo poi è il risultato concreto. Che diavolo significa? Io sono a favore delle vaccinazioni, a questo punto rendiamolo obbligatorio. Bene, fai la proposta al Parlamento per rendere obbligatoria la vaccinazione, se sei una persona seria, altrimenti sei una irresponsabile che continua a giocare con il fuoco. Allora, vediamo di chiuderla la porta per non far entrare il virus. Questi atteggiamenti, questi comportamenti, questo opportunismo politico, fra l'altro punito dagli elettori nelle scorse amministrative, servono a diffondere il contagio. Gli elettori hanno dimostrato grande intelligenza. Gli elettori hanno dimostrato grande intelligenza.